Oh, dammi il pallone, voglio battere il mio ricordo e palleggi di testa, dai! Ah, molto bene, io la Red Bull, grazie mille, per le ragazze, tu non prendi niente Samu? Prego, posto, no, 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 non ce la sta, ah, grazie, grazie mille. Grazie, grazie, vediamo. Allora, ti stavo dicendo, secondo me, visto che dicono tutti, vabbè, tu hai vinto il pallone d'oro, dicono che io potrei vincere da 100 tiri, ma in realtà si è becco Moscardelli quando la vinco. Però potresti farcela, sai? Dici che potrei farcela? Sì, perché le qualità le hai. Dicevano così al pallone d'oro, sono uscito con Gnabry, sono uscito. Beh, lì è stato un caso. Ma perché Gnabry si allena tutto l'anno per fare questa lavoro, vero? Sì. Ascolta, ma io ti volevo proporre questa cosa perché ti ho portato qua perché ti volevo proporre una roba. Cioè, dicono che siamo... Chi loro? No, non ti ho portato loro. Ah, spi... Ti ho portato una notizia, Samu. Ah, hai ragione. Ti sono potenti? No, loro sono venuti con me a bere qualcosa perché ti volevo dire questa cosa qua. Ci dicono che probabilmente potremmo essere gli youtuber calcistici un pochettino più forti a livello, parlo proprio calcistico. Sì, però bro, sappi che è dura. È durissimo, vero? È dura. Io sono qui da un po' più di tempo e ti dico che è molto dura. Eh, io sono su YouTube da pochissimo. Cioè, capisco veramente poco di YouTube. Infatti, tante volte sbaglio, sono più le volte che sbaglio in cui faccio le cose giuste. Quindi sono qua per chiederti una roba. Secondo te, per fare quel gradino che ci permette di differenziarci da tutti, cosa dobbiamo fare? Eh, bro, la soluzione è una sola. Io già lo so cosa vuoi dirmi. Lo sai? Puoi fare una hit. Dobbiamo farla. No, dobbiamo fare una hit. Non siamo sicuri? Cioè, non lo so. Cioè, ci vorrebbe qualcuno con più esperienza. Cosa ci fanno questi guavoli? E la hit? Che dite? È il momento di fare una hit. Ah, è estate, scusa. Ma scusa. Se volete rimanere nella cresta dell'onda, è importante fare una bella hit. Che rimanga scolpita nella testa di tutti quanti. Ma dici che potremmo funzionare io e Samuel insieme? Eh sì, pallone d'oro, però devi cantare. Questo che col calcio non ce l'hai fatta. Come non ce l'ho fatta? È una verità. Bene. Quindi mi abri dopo che mi batti al pallone d'oro, mi dai del falletto a livello calcistico, io voglio ascoltarti. Samu, facciamo la hit dell'estate e visto che tu abiti a Bologna e io abito a Milano, come potremmo chiamarla? Come potremmo chiamarla? Cioè, non riesco a capire, io abito a Milano, tu a Bologna, come facciamo unirci per fare la canzone? Oh, oh, che state ballando? Anche tu sei qua. Chiama Gilbert Torana, campione del mondo in Pallone con la testa con 20.400 Pallone in 2.15 minuti. Ragazzi, il nome della canzone è Milano-Bologna, sempre questo. Milano-Bologna? Sì, 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 dobbiamo spaccare, perché dobbiamo spaccare, perché lì a Bologna c'è un pallone d'oro, ehi, è lui qui? Eh sì, pallone d'oro. Che fai qui? Il re è lui. Ti volevo chiedere. Raga, è pallone d'oro, Milano-Bologna, basta, questo nome non c'entro io. Una cosa intelligente l'ha detta. L'ha detta però, può funzionare, vuoi far parte del video? Sì, certo che sì, io sono già nel tuo video. Allora andiamo a fare questo video. Subito, andiamo. Andiamo. Giro per la città, con la maglia di Farah, sembrava Jay Nana, invece è solo Jay Patah. Lo incontro per la strada, lui la maglia mi darà, qualsiasi cosa fai, poi il commento arriverà. Prendo la palla al volo, me la corsa, Samuel, io non ne voglio due, preferisco averne tre. Cresciuto per la strada, col pallone, con i fans, creato con la 500, ora con il fans. Jay Patah, panneggio di testa, Jay Nana, cresciuto per strada. Jay Patah, la prendo al volo, girata, col pallone d'oro, serata. Nanane nananana Jay Patah, nanane nananana Jay Patah, Milano, Bologna Jay Patah, ormai ci conosce l'Italia. Go a terza categoria, dodici gol per forza di cose, esultanza la pellegrino, dopo ti dona le rose. Dal piano più alto a quello più basso, si cade giù, ma adesso infame, scendi dal carro che non ti voglio più. MSP, MSP, chiamami sono già lì, pallone d'oro YouTube Italia, eccomi sono qui. Stiamo scrivendo noi la storia, facciamo Baldoria. Mi chiamavano Opsamo, il pallone d'oro d'Italia. Jay Patah, palleggio di testa, Jay Nana, cresciuto per strada. Jay Patah, la prendo al volo, girata, col pallone d'oro, serata. Nanane nananana Jay Patah, nanane nananana Jay Patah, Milano, Bologna. Jay Patah, ormai ci conosce l'Italia. Stop, 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 ragazzi, sono un po' stanco bro. Come un po' stanco bro, sono stanco dai. Sì, sì, io vado. Vai un po' to, vai un po' a cambiare, va. Vammono! Che lo che? Arriva! Vamo! Sono Jay Patah, nananana, nananana, Nananana Jay Patah, nananana Jay Patah, Milano, Bologna, Jay Patah, ormai ci conosce l'Italia. Nananana Jay Patah, nananana Jay Patah, nananana, off somewhere, Jay Patah. Nananana Jay Patah, ok ragazzi, il video è finito. Cosa ne hai pensato? Sai che non è male. Non è male, eh? Secondo me è una hit. Va bene, abbiamo fatto la hit, dici? Sì, è una hit. Va bene, dai, andiamo. Tutti a casa. Io vado. Tutti a casa. È stato un piacere. Grazie, ragazzi. Jay Patah. Ciao ragazzi. Jay Patah. Ragazzi liberi, tutti a casa. Ciao ragazzi. Andate a casa. Ciao. 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 Jay Patah, palleggio di testa. Jaynana, cresciuto per strada. Jay Patah, la prendo al volo. Girata, col pallone d'oro. Grazie a tutti